Con il clemo orizzonte mediterraneo, la città di Modica si candida ufficialmente a capitale della cultura 2022. Un dossier di 60 pagine dove l'elemento cultura costituisce il perno attorno al quale ruotano le vocazioni della città e del suo territorio. E' no gastronomia, agricoltura, commercio, feste patronali, abitudini tradizionali e tutta una storia millenaria che continua a riflettersi sotto l'ombra di una Modica già capitale della Contea. Al di là dei nomi di grande popolarità che hanno aderito sostenendo il progetto, è la città delle sue innumerevoli piani secolari, dal paleolitico all'archeologia industriale, un'era che ha alimentato la sua storia. Una storia raccontata da cantori di idee e di parole unici, il Nobel Salvatore Quasimodo, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino. Modica 2022, Orizzonte Mediterraneo, è stato condiviso tra gli altri dal prof. Giorgio Calabrese, nutrizionista di fama mondiale, Andrea Tidona, attore modicano, della Federazione Italiana Scherma e dell'Università di Nottingham. Non è la prima volta che Modica tenta questa candidatura, ma rispetto all'ultima esperienza, aveva spiegato mesi fa il primo cittadino di Modica, Ignazza Abate, abbiamo maggiori eccellenze da poter valorizzare. Sarebbe il giusto coronamento di quel processo di crescita che la città ha intrapresa ormai da sei anni. Altro candidato ibleo è il Comune di Scicli. La Giunta Giannone ha consegnato al Ministero dei Beni Culturali il dossier di 60 pagine con cui candida Scicli a Capitale Italiana della Cultura 2022. Un lavoro lungo sette mesi che ha messo in rete il privato culturale di Scicli ed un'area vasta che contempla il sud-est siciliano e l'ente pubblico territoriale, il Comune. Nel dossier Scicli viene identificata come città della gioia e l'idea guida del progetto di promozione della città è in gioia vivendi, ovvero gioia di vivere. Laddove il termine gioia indica anche la sua declinazione maschile, ovvero il Cristo risorto, uomo vivo, che a Scicli viene appellato col nome di gioia. Il dossier sarà presentato alla città e all'amministrazione comunale retta dal sindaco Giannone in una data di agosto di prossima comunicazione. Tale momento segnerà l'avvio di un percorso corale di programmazione che vuole creare sviluppo economico su base culturale per Scicli.